Buongiorno cari persone all'ascolto, un saluto da un sorriso in più Ollus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei parlarvi di un genio italiano senza tempo, conosciuto, ammirato, apprezzato e studiato in tutto il mondo, ossia di Leonardo da Vinci. Prima però di parlare dell'opera di cui oggi ho deciso di fare l'analisi con voi, ossia l'annunciazione di Leonardo, volevo un attimo inquadrare chi era questo personaggio, questo artista che venne riconosciuto come un genio già quando era in vita. Leonardo da Vinci nasce a Vinci, per quello che si chiama così, nel 1452. Era figlio illegittimo di un notaio che a dieci anni decise di portarlo a imparare il mestiere di artista, di pittore da chi al tempo non c'era nell'accademia e quindi lui va e impara nella bottega di un artista già fermato che era il Verrocchio. Il Verrocchio era già celebre nella Firenze dell'epoca che ricordiamo era una città in espansione tanto a livello economico, a livello sociale, a livello culturale e quindi anche a livello artistico. Leonardo in quegli anni capisce due cose sostanzialmente. La prima, che non bastava essere capaci nel progettare un'opera, doveva essere capace anche a realizzarlo. Quindi lui si concentra da un lato nella progettazione, come le figure devono essere disposte, qual è il soggetto, ma anche nelle tecniche da utilizzare, nelle modalità comunicative che la pittura può comportare. E questa è la prima cosa che capisce. In secondo luogo, lui capisce che per non riprodurre in maniera piatta la realtà sulla tela, doveva studiare tutta una serie di ulteriori materie, come l'anatomia. Noi pensiamo alla moneta da un euro. Sulla moneta da un euro c'è l'uomo vitruviano, che è uno studio di anatomia che Leonardo ha fatto in quegli anni. Questo perché lui immaginava che studiando il corpo umano, studiando la perfezione del corpo umano, si potesse capire davvero l'essenza delle leggi che governano la natura. Per questo quindi lo studio dell'anatomia poi verrà applicato anche ai dipinti. Lui studiò la meccanica, fu un grandissimo invettore. Abbiamo una serie di taccuini, abbiamo una serie di schizzi che addirittura fanno ipotizzare che Leonardo sia stato uno dei primi a immaginare quelli che oggi sono gli aerei, ovviamente con diverse configurazioni. Però fu anche, ovviamente, un grandissimo pittore. Un grandissimo pittore che in un primo momento della sua vita dipinse a Firenze e poi si spostò, si spostò in particolar modo a Milano. Ma abbiamo tantissime opere famose di Leonardo. Pensiamo, per esempio, alla Dama con l'Ermellino, alla Vergine delle Rocce, ma anche, inevitabilmente, al quadro più famoso e più visitato al mondo che si trova al Louvre, ossia la Gioconda, la Mona Lisa. È un'opera anche quella di Leonardo. Però arriviamo a trattare dell'Annunciazione. L'Annunciazione è il primo dipinto di Leonardo che compie in autonomia. È del 1472, quindi quando Leonardo aveva vent'anni e infatti abbiamo un piccolo difetto che tra poco vi svelerò. Ma al tempo era già chiaro che sarebbe diventato famosissimo, sarebbe diventato un grande maestro italiano apprezzato ovunque, perché la sua pittura era in una certa misura già matura. È questo un quadro, l'Annunciazione, che si svolge in orizzontale. Noi naturalmente siamo portati a vedere prima l'angelo e a spostare il nostro sguardo verso Maria. Questo perché ci sono delle piastrelle di colore chiaro che dall'angelo ci spostano verso Maria e Maria è come incasellata dalle piastrelle sulla parete che prendono il nome di Bugnato. Questa ovviamente è la rappresentazione di una celebre scena tratteggiata dal Vangelo per cui l'angelo del Signore annuncia a Maria che nel suo grembo avrebbe ospitato il figlio di Dio. Ovviamente nel Vangelo questa scena si svolge in Palestina, una terra arida, una terra piena di sole. Ecco che però Leonardo decide di dare uno sfondo con un paesaggio, un giardino all'epoca di moda a Firenze. Infatti abbiamo degli alberi addirittura sullo sfondo che sono rappresentati come facevano i fiamminghi, i pittori fiamminghi al tempo, molto precisi, molto curati. A destra abbiamo addirittura un piccolo scorcio di montagne in toni azzurri che si intravedono appena e questo sarà un elemento distintivo di Leonardo in molte opere quando deve dipingere dei paesaggi. L'angelo quindi annuncia a Maria che sta leggendo, di fronte a sé è un leggio e è quindi sorpresa. Vediamo il piccolo errore che Leonardo fece al tempo, ossia mettere la figura di Maria un po' troppo distante dal leggio, con la conseguenza che il braccio di Maria, se lo osserviamo molto bene, è in realtà più lungo di quanto dovrebbe essere. E questo è un errore di gioventù che però non inficia la grandezza dell'opera in sé. Anche il leggio in realtà non è un'idea originale di Leonardo, ma riproduce un manufatto effettivamente realizzato dal suo maestro, il Verrocchio, alcuni anni prima, con l'aggiunta di alcuni dettagli. Per esempio abbiamo sul leggio una piccola conchiglia. La conchiglia è uno dei simboli di Maria, è un simbolo di verginità. Abbiamo il festone, che anche quello è un simbolo mariano. E quindi Leonardo, nella sua rappresentazione, decide di accogliere anche dei simboli che abbiano una dimensione ulteriore, una dimensione che parla allo spettatore grazie dei riferimenti all'arte. Spero che questo video vi sia piaciuto e un saluto alla prossima.